Dopo aver solcato i mari su Naval Strike, DICE ci riporta sulla terraferma. Questa volta l'azione si sposterà soprattutto in territori urbani, trascinandoci in un'esperienza Close Quarter Combat grazie anche alla nuova modalità Chain Link. Quest'ultima è stata pensata ad le mappe proposte in questo pacchetto. Si tratta di una versione della classica modalità Conquest pensata per la sola fanteria, in cui per ridurre i ticket avversari sarà obbligatorio conquistare le bandiere in sequenza. Più lunga sarà la sequenza, più velocemente i ticket avversari si ridurranno. Sebbene questa modalità di gioco non sia una vera innovazione, ci ha colpito più che positivamente, dato che si sposa perfettamente con i combattimenti a piedi in spazi ristretti. Grazie a Chain Link, gli sviluppatori sono riusciti ad incentivare ulteriormente il lavoro di squadra tra i giocatori della stessa fazione, rendendo ancora più importante il ruolo del capo squadra e del comandante. Sebbene in questo DLC non siano stati introdotti nuovi veicoli, avremo la possibilità di sfoggiare due nuovi gadget. Il più interessante è il R.I.W.R., un drone su ruote che monta una potente mitragliatrice. Il secondo è uno scudo blindato che può essere equipaggiato per la classe di supporto. Si tratta di uno strumento utile solo per chi fa gioco di squadra, in quanto è in grado di fermare quasi ogni tipo di proiettile, ma allo stesso tempo non permette di imbracciare alcun tipo di arma. Passando alle mappe, i contesti urbani sono caratterizzati in maniera eccellente, ma di dimensioni sempre contenute. Ambientata nel famoso parco tailandese di Bangkok, l'Unfini Garden è l'unica mappa di questo DLC che focalizza il combattimento sulle lunghe distanze. Da una parte una lunga monorotaia sopraelevata offre un irresistibile appostamento per i cecchini, mentre dall'altra si staglia un paradisiaco giardino stile giapponese. Grazie ad un fiumiciatolo che attraversa la mappa e diverse strutture è possibile aggirare il nemico sfruttando le coperture del territorio. Con l'uso della Levolution si potranno chiudere le ventole di una piccola diga e fare in modo che un'ondata di fango si riversi nel centro della mappa, creando nuove coperture ed avvallamenti. Situata nel centro di Hong Kong, Pearl Market è una mappa urbana, costellata dagli angusti vicoli del centro che focalizzano il combattimento sulla breve distanza. I sviluppatori hanno fatto un largo uso della verticalità, permettendo ai giocatori di esplorare diversi palazzi che si affacciano nelle strette vie, portando il combattimento anche tra i tetti. Ambientata a Pyongyang, Propaganda è la mappa che più ci è divertito in questo DLC. L'ambientazione alterna stretti vicoli sporcati dalla neve ai grandi spazi di una stazione, con una ferrovia attraversata da un convoglio che trancia senza pietà i giocatori meno attenti. A nostro avviso, Propaganda è una delle migliori mappe proposte in tutto Battlefield 4, capace di accontentare sia gli amanti dei veicoli che della fanteria, alternando scenari angusti e spazi molto più estesi con grande maestria. Sunken Dragon è situata nel bel mezzo di una metropoli asiatica attorniata da grattacieli. Peccato che non sfrutti la verticalità di Pearl Market. L'azione si sposta dalle strade sino ad un enorme parcheggio a due piani nel centro della mappa. Grazie alla Revolution è possibile anche sommergere una parte dell'ambientazione dove si trova un nightclub a tre piani. Si tratta in ogni caso della mappa meno impressionante del pacchetto, salvata solo dall'evento dinamico. Anche Dragon Steak si conferma un ottimo DLC, spostando l'azione su larga scala di Battlefield 4 verso più ristretti ambienti urbani. Chi ama combattere esclusivamente a bordo di veicoli rimarrà probabilmente deluso, tuttavia i combattimenti a piedi hanno tutto un altro sapore grazie anche alla nuova modalità chain link. Dragon Steak è un DLC che consigliamo a tutti gli amanti dello sparatutto DICE. Le mappe vantano un'ottima caratterizzazione e stimolano il gioco di squadra. Peccato solo per i nuovi gadget, non all'altezza delle aggiunte viste in precedenza.